Nei primi 5 turni di campionato il torneo di promozione non ha mostrato i reali valori, le attese della vigilia non sono state confermate, solamente Sant'Ommaso e Grotta hanno rispettato i pronostici di inizio torneo, ma dopo 450 minuti giocati le prime 5 della classe sono racchiuse in soli 3 punti. Tra il Sant'Ommaso a 12 punti e il Grotta quarto a 10 ci sono Baiana a 11 e Vistariana a 10. Due autentiche sorprese, due squadre che hanno iniziato la stagione a fare i spenti. La squadra di Angelo Galluccio è una formazione di matrice zemaniana, 11 gol fatti e 7 subiti. Nonostante l'addio di un centrocampista di qualità come Colucci è riuscito a trovare in fioravante Falco un attaccante di grosso spessore, 3 gol messi a segno dalla punta che riduce da 5 campionati di fila nel massimo campionato regionale. Senza dimenticare l'esperienza di Gaglione e quella di Capitano da Manzo. La sorpresa vera e propria del campionato è la Vistariano di Mario Silvestro, allenatore che secondo molti addetti ai lavori poteva lavorare esclusivamente con i giovani. Invece in Valle Ufida sta dimostrando tutto il suo valore. Capo di lupo è di sicuro l'uomo di punta a 5 gol in altrettante gare giocate. Chi ha confermato le attese come dicevamo è il Sant'Ommaso che esclusa la gara persa contro il Montesarchio è primo in vetta a 12 punti. Anche se il mister di annuzzi ha perso manco può contare su giocatori del calibro di Cioffi e guardabascio un attacco atomico. La vera battistrata del campionato dovrebbe essere il giotto di Ferraro che in casa sta stentando. Solo 4 punti conquistati a differenza dei 6 ottenuti fino ad oggi fuori casa. Una formazione che almeno sulla carta vedendo i nomi di Schippa, Grillo, Russo e Cataruzzolo dispone di un attacco veramente importante e proprio queste due si sfideranno nel prossimo match. Sul contraltare due squadre che non sono riuscite ad esprimere il loro potenziale carotenuto è Serino. Il presidente dei mandamentali annunziata ha dato il ben servito al difensore Roberto Mollo e all'attaccante Salvatore Montaperto. I due calciatori a giudizio del padrone rosso-nero sarebbero stati autori di prestazioni sotto tono. In casa Serino che al momento ha ottenuto 6 punti si va alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l'infortunato russo. Non è ancora tempo di bilanci ma il Mugnano e i biancazzurri di trotta devono cambiare passo per sedersi al tavolo delle grandi.